Non c'è davvero pace per il laghetto dei Cigni nella pineta di Ponente a Via Reggio. Infatti la notte scorsa qualcuno che si è voluto liberare di due coniglietti li ha lasciati all'interno del laghetto e nella mattinata di mercoledì un cane senza il guinzaglio che li ha notati ha scavalcato la recinzione e l'ha zannato ferendolo in modo grave e purtroppo è morto. Un signore che si è trovato a passare dal laghetto ed ha visto la scena ha preso i due coniglietti e li ha collocati all'interno di una gabbietta che era stata utilizzata nelle settimane scorse per metterci dei cuccioli di Germani ed ha avvertito il personale di Iker che gestisce adesso la manutenzione del laghetto e la polizia municipale di Carabinieri. I militari sono giunti sul posto per verificare quanto avvenuto. Non sono mancate ancora una volta le polemiche da parte di cittadini che hanno a cuore le sorti del laghetto che per la città è una istituzione.